ciao allora oggi un video un po così volevo far vedere la mia postazione se così si può chiamare comunque questa qua era la culla del mio cucciolo che adesso utilizzo come tra virgolette magazzino infatti dentro come vedete c'è lana cotone insomma è quasi tutto ben sistemato nei vari sacchettini qui ho una libreria dove c'è un po di tutto e poi qui è veramente dove lavoro io sotto la macchina da cucire questi sono dei ritagli di vetro qui non è mio poi questo praticamente qui è dove faccio i video lì ho delle cose piccoline per arrucchini collane piccoline qua pennelli l'alcol l'acqua principalmente e poi qui sopra qui adesso non vi apro comunque ho dei quadri delle cose mezze finite o finite qui l'ordine non c'è già più dovrebbe essere quasi finito questi sono dei quadri che ho quasi finito dietro dei ritagli di vetro penne per mille varie e poi qui nel primo cassetto solo cancelleria quindi niente di straordinario nel secondo invece tutti i colori per il vetro quindi questi a freddo tutti qua e quelli a caldo di qua scottex scotch insomma cose che più o meno mi possono servire mentre nel cassetto successivo o pennelli quasi in ordine acrilici acrilici varie eventuali colle questi qua piccolini che sono dei colori per metallo degli smalti e poi basta diciamo no l'ultimo solo delle riviste e poi qui che però ovviamente qua non è più tantissimo in ordine allora qui dentro sono due piani dove praticamente solo vetro da dipingere e qualcosa di da dipinto ma diciamo che 90% da dipingere e altro materiale che mi può servire altri colori ma proprio cose nuove altri pennelli nuovi proprio cose nuove 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 a chiedete qua un altro piatto che adesso andrò a fare e niente quindi questo qua diciamo principalmente il mio angolino ovviamente c'è la sedia che adesso ho un momentino tolto non sto a farvi vedere tutta la lana insomma tutto quello che c'è qua perché altrimenti diventiamo diventiamo ammatti ci vediamo al prossimo video ciao